Il nuovo presidente della provincia, sindaci divisi sul successore di Pugelli, è corsa tre. La faccia di Pablo Escobar sul panetto di Ashes nascosto in casa, arrestati due giovani, c'è anche un diciottenne. Premio Santo Stefano al via le candidature delle aziende per l'edizione numero 13. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di TV Prato. In primo piano la politica e le elezioni del prossimo presidente della provincia. I sindaci pratesi sono divisi sul successore di Francesco Pugelli che è in scadenza. È corsa tre fra Edoardo Prestanti, Simone Calamai e Primo Bosi. Il 25 ottobre è in programma un incontro tra i primi cittadini per cercare una candidatura condivisa, ma ci sono molteplici ostacoli da superare. Il servizio è di Stefano De Biase. Fra i vari fronti che il PD si sta ritrovando a gestire in un autunno a dir poco caldo sul fronte della compattezza del partito e della gestione delle alleanze, adesso arriva anche la grana del rinnovo del presidente della provincia. Quella che poteva essere una questione da gestire con un accordo in serenità fra sindaci, si è invece trasformata in una partita delicatissima dove in ballo ci sono posizioni completamente contrapposte. L'unica certezza al momento è che si voterà il 26 novembre. Questo significa che Francesco Pugelli non potrà correre per il bis perché rientra nelle esclusioni previste dalla legge che impedisce di candidarsi ai sindaci con mandato in scadenza nei 18 mesi successivi. Pugelli sarà chiamato al voto per il bis appoggio a Caiano nel 2023 e quindi è fuori dai giochi. L'indizione per il 26 novembre dei comizi elettorali ha invece salvato gli altri sindaci della provincia, Bosi, Morganti, Buongiorno e Calamai, che non ricadono così nel vincolo dei 18 mesi dalla fine del mandato, visto che si voterà a maggio 2024 nei loro rispettivi comuni. Alla luce di questa premessa si inseriscono le ambizioni di tutti i primi cittadini. Da un lato c'è la delusione di Pugelli, che ambiva al bis, ma si è scontrato con la richiesta di rotazione della carica su base territoriale da parte degli altri sindaci. Poi ci sono i malumori di Edoardo Prestanti, che in scadenza nel 2026 sarebbe l'unico a poter garantire un mandato di quattro anni, ma che si deve scontrare con i tre sindaci della vallata che chiedono la presidenza della provincia per la Val Bisenzio. Fra loro Buongiorno si è già tirato fuori dalla corsa, mentre Primo Bosi di Vaiano sembra in pol. Deciso a giocarsi le sue carte, c'è anche Calamai di Montemurlo, che dalla sua vanta il secondo comune per popolosità della provincia. Il 25 ottobre ci sarà un primo incontro fra i sindaci per dirimere la vicenda, poi le candidature dovranno essere presentate entro un mezzogiorno del 6 novembre. Cronaca, due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri di Montemurlo nel corso di specifici controlli antispaccio. Si tratta di un 23enne cittadino marocchino sorpreso a cedere cocaina ad un giovane e di un 18enne di Vernio trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due arrestati hanno permesso di ritrovare in casa del magrebino 8 grammi di cocaina ed un panetto da un etto di hashish con un adesivo che riproduceva il volto del noto trafficante Pablo Escobar, oltre a 5 mila euro in contanti. In casa del 18enne sono stati invece trovati un etto di hashish e 600 euro in contanti. E adesso il report dell'Associazione Nazionale Rete dei Comuni Sostenibili che ha promosso Prato, considerata una città virtuosa per la sostenibilità. Vediamo. Prato è tra le realtà più virtuose in Italia per le politiche di sostenibilità finalizzate a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Lo certifica la Rete dei Comuni Sostenibili, associazione nazionale di cui il Comune di Prato fa parte, che ha stilato un rapporto costituito da 101 indicatori per misurare servizi e performance in tema di sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. Secondo il report, l'84% degli indicatori presenta per Prato risultati positivi. Il Comune di Prato negli ultimi anni si è dotato di strumenti di pianificazione molto importanti, ad esempio il piano della mobilità sostenibile, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, iniziative contro la violenza sulle donne, iniziative per l'educazione dei minori, perché l'Agenda 2030 non è soltanto ambientale, ma anche sostenibilità economica e sociale. I posti negli asili nido nel nostro territorio crescono negli ultimi anni e questo è uno degli obiettivi che l'Agenda 2030 si dà. Oppure si pensi a tutto il lavoro sulla banda ultralarga e quindi alla presenza dell'infrastruttura in fibra ottica che è presente sul nostro territorio, rispetto alla quale ormai stiamo sfiorando il 100% del cablaggio della città e nei prossimi anni lo raggiungeremo sicuramente. Ovviamente ci sono anche alcuni indicatori sui quali abbiamo ancora da fare, alcuni temi che riguardano per esempio alcuni dati di contesto, per esempio tutti i temi sociosanitari. La Rete dei Comuni Sostenibili è un'associazione nazionale aperta all'adesione di tutti i comuni italiani che vuole accompagnare le amministrazioni locali al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Oggi per la prima volta tutti i comuni possono partecipare a questo processo e sono sostenuti da un lato da una legislazione coerente, perché per la prima volta dalle Nazioni Unite all'Europa, allo Stato, alle regioni parlano tutti la stessa lingua, ma soprattutto da grandi opportunità di finanziamento per realizzare quei progetti che si vogliono creare nella comunità locale. È un modo, questo, molto utile, è un processo virtuoso per passare da una sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata. Nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia dell'approvazione del progetto Multi Utility da parte del Consiglio Comunale di Prato, mentre il Consiglio Comunale di Cantagallo ha respinto la proposta di quotare in borsa la nuova Multi Utility Toscana. Lo ha fatto con il voto contrario del gruppo di maggioranza di centro-sinistra e l'astensione dell'opposizione. La mozione presentata dal capogruppo Giulio Gigliotti, pur condividendo il progetto di aggregazione dei servizi pubblici in un'unica società di area vasta, ha tuttavia bocciato la proposta di reperire sul mercato finanziario le risorse per capitalizzare la nuova società. Una posizione motivata dalla funzione sociale dei servizi pubblici locali in quanto beni comuni, dalla loro necessità e universalità, sui quali, afferma il sindaco Guglielmo Buongiorno, non devono essere consentite operazioni speculative volte alla realizzazione di profitti da parte di investitori privati e che potrebbero mettere a rischio il patrimonio comunale. Al via le candidature per la nuova edizione del premio Santo Stefano si potranno presentare online sul sito della Diocesi, dove è possibile dunque segnalare le aziende ritenute meritevoli. Il servizio di Giacomo Cocchi. Lo Stefanino d'Oro si prepara alla sua tredicesima edizione. Anche quest'anno la macchina organizzativa del premio conferito alle aziende virtuose del distretto pratese si mette in moto con l'apertura delle candidature da far pervenire al comitato promotore. Fino a giovedì 8 dicembre è possibile segnalare un'impresa considerata meritevole del riconoscimento collegandosi al sito della Diocesi di Prato all'indirizzo www.diocesiprato.it. Nella sezione dedicata al premio Santo Stefano è presente un apposito form dove si possono indicare il nome o la ragione sociale dell'azienda e inserire una breve descrizione dell'attività economica e il tipo di produzione in cui opera. È richiesto anche di indicare quali sono i punti principali di eccellenza dell'impresa e i motivi che rendono questa attività meritevole del riconoscimento rispetto all'etica, ai diritti del lavoro, al tema della concorrenza, della ricerca e della formazione. Il requisito fondamentale è che l'azienda segnalata sia iscritta alla Camera di Commercio di Prato. Quando verranno chiuse le candidature toccherà al comitato promotore, formato dalla Diocesi di Prato, dai comuni di Prato e Montemurlo, dalla provincia, dalla Camera di Commercio e dalla fondazione Cassa di Risparmio di Prato, scegliere i tre vincitori della tredicesima edizione. Come da tradizione i loro nomi verranno resi noti dal Vescovo Giovanni Nerbini al termine della celebrazione del solenne pontificale del 26 dicembre in Cattedrale, festa del Patrono di Prato. Ricordiamo i vincitori della scorsa edizione, la numero 12, la BB di Marco Bartoletti, specializzata in accessori di metallo per i grandi brand della moda, la Marini Industrie che produce tessuti per i marchi della moda internazionale e la Manifattura Igea, una delle maggiori industrie di filati per maglieria del distretto pratesi. Ed ora lo sport calcio, il Prato si avvicina ad un nuovo impegno di campionato, domenica sarà impegnato a Budrio dove affronterà il mezzo l'area. La situazione di classifica non lascia tranquilli i biancazzurri ed anche i tifosi chiedono un cambio di rotta alla società. È un momento delicato per il Prato che non vince da sette partite, ha già abbandonato le ambizioni di vertici e adesso deve guardarsi più alle spalle che davanti perché la zona play-out è a solo i due punti. Una situazione che ha spinto i tifosi biancazzurri a prendere posizione con una nota congiunta diffusa nei giorni scorsi nella quale viene contestata la mentalità da perdente da parte di chi ha scelto i giocatori e li manda in campo. Un attacco che sembrerebbe diretto in primis al tecnico Giancarlo Favarin perché gli ultras specificano che invece i giocatori stanno dando il massimo. I tifosi chiedono quindi alla società un cambio di rotta e che i risultati non stiano corrispondendo all'attesa e lo pensa anche Francesco Renzi, autore del gol del pari domenica scorsa. Capiamo comunque anche il rammario dei nostri tifosi che sono continuamente presenti in tutti i campi di Lombardia, Emilia, Toscana, ci sono sempre e noi purtroppo fino ad ora non siamo riusciti a dargli quello che probabilmente meritano, a dare quello che una piazza come il Prato merita, lo sappiamo, però ecco, qualche volta è girata male, qualche volta si potrà dare di più. Secondo me questi dieci punti che abbiamo conquistato fino ad ora non rendono pienamente valore a quello che la squadra ha dato. Loro non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio, quindi ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà, anche per esempio prendo l'ultima sconfitta abbiamo fatto contro la Gianna e il Minio hanno cantato dal primo minuto all'ultimo, quindi comunque ci danno una grossa mano anche nei momenti di difficoltà. Domenica dopo aver trovato il Parigi abbiamo avuto diverse occasioni di fila, li abbiamo sentiti, comunque ti spingono sempre a fare meglio e se sono vicini alla squadra sicuramente danno una grossa mano, soprattutto anche in questi momenti. È ovvio che già da domenica serve invertire la tendenza per evitare che la stagione possa prendere una piega ancora più negativa e nove nubi possano addensarsi sulla squadra. Lo chiede la classifica, ma lo chiedono soprattutto i tifosi. E adesso le previsioni meteorologiche, come sempre, a cura del Consorzio Lamma. Un saluto dalla sala metro del Consorzio Lamma, cominciamo subito a vedere le immagini che ci mostra in questo momento il satellite, vediamo come gran parte dell'Europa si ha sgombro da nubi per la presenza di un campo di alta pressione molto esteso, le perturbazioni associate a un vortice atlantico rimangono più a ovest, interessano la Spagna, la Francia e le isole britanniche. Continueranno, avranno difficoltà, questa perturbazione, a entrare nel Mediterraneo anche nei prossimi giorni per la persistenza di questa alta pressione che tenderà a indebolire il loro movimento verso Levante. Andiamo a vedere le previsioni per oggi. Le conseguenze dell'alta pressione è un cielo nel complesso, sereno, poco nuvoloso ovunque, le nebbie di questa mattina tenderanno gradualmente a dissolversi appunto nella mattina stessa e nel pomeriggio prevarrà il sole ovunque con un rinforzo dei venti di maestrale sulla costa, temperature sempre piuttosto alte, massime fino a 22-25 gradi. Passiamo alla giornata di domani, anche domattina foschie e banchi di nebbia sulle pianure dell'interno però meno estese rispetto ad oggi, venti deboli, temperature sempre sui valori odierni, domani pomeriggio prevalenza di sole, qualche nube alta in arrivo sul nord ovese, temperature sempre piuttosto alte, 24-26 gradi, siamo 3-4 gradi al di sopra della media del periodo. Bene, con questo direi che è tutto. Il telegiornale del giorno si conclude qui, restate con noi, vi ricordiamo alle 17.30 in diretta dalla chiesa di San Bartolomeo a Coiano, la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa. L'informazione poi torna stasera alle 20.30 con il Tg Serale. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio. Grazie. Grazie.